bene eccoci qui per la nostra prova di volo quindi innanzitutto apriamo i braccetti inseriamo la batteria nel suo alloggio scheda sd in posizione e accendiamo il modello un primo clic e un secondo clic accendiamo anche il radiocomando per il momento procediamo senza cellulare procediamo con la calibrazione ok c'è stato un lampeggio veloce poi ha smesso andiamo a calibrare anche la bussola ok calibrazione effettuata attraverso questo tasto è possibile anche cambiare il modo di volo al momento c'è scritto modo 1 ma secondo un altro video che ho trovato il modo è invertito per cui il modo 1 probabilmente corrisponde al modo 2 italiano quindi gas a sinistra sembra che ci siano solo cinque satelliti per cui non procede con l'arm infatti togliendo il gps è possibile armarlo quindi proviamo comunque a sollevarlo quindi confermo che il modo 1 indicato sul radiocomando equivale al nostro modo 2 per cui il gas è a sinistra devo dire che anche senza il gps sta mantenendo la posizione probabilmente grazie al sensore proviamo a fare un breve volato avanti indietro destra avviamo anche la registrazione video io Grazie a tutti. Ok, proviamo ad atterrare e vediamo se la situazione dei satelliti è migliorata. Ok, la situazione dei satelliti al momento mi dà tra 6 e 7. Proviamo ad accendere di nuovo il GPS. Ci colleghiamo alla sua Wi-Fi. Ok, e avviamo l'applicazione. Il video è presente. 8 satelliti. Proviamo quindi il decollo automatico. No, bisogna prima armare i motori. Proviamo l'overing con il GPS attivo. E vediamo anche se mantiene la posizione in caso di eventi esterni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aumentiamo la velocità. Grazie a tutti. 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 il palo per vedere quanto l'inquadratura rimane stabile su un punto fisso, mettiamo il palo al centro del video, ok, devo dire che il mantenimento della posizione mi sembra buono, c'è una leggera brezza ma continua a rimanere lì dove l'ho lasciato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il modello risponde perfettamente ai comandi impartiti e giusto un po' brusca la frenata quando smetto di dargli la direzione. Purtroppo invece dal punto di vista video durante la registrazione noto dei ritardi nella ricezione del video sul telefono. se provo ad interrompere la registrazione vediamo se va meglio. a presto. proviamo l'escursione della telecamera. quindi andiamo prima giù. e adesso portiamo la telecamera su. il movimento della telecamera non è fluido e sembra che ci sia un servo comando a muovere il tilt. però per aggiustare l'inquadratura va bene ma non per fare un video fluido. il movimento della telecamera non è fluido. il movimento della telecamera non è fluido. il movimento della telecamera non è fluido. un momento è fluido. il movimento della telecamera non è fluido.. del movimento della telecamera non è fluido. yellow bandolotti ha cri Oxe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci per provare le varie funzionalità di volo. Questa volta usiamo l'applicazione Suite GPS, quella indicata nel QR code. Per cui cominciamo subito. Decollo automatico. Come possiamo vedere anche in presenza di vento il quadricottero mantiene comunque la sua posizione anche senza toccare il radiocomando. Proviamo a questo punto la funzionalità di follow me. Grazie a tutti. Quindi il quadricottero mantenendo l'altezza mi ha seguito puntando sempre la telecamera verso di me. Proviamo adesso un'altra funzionalità che è quella del circle. Quindi gli diciamo di quanti metri deve essere il raggio. Facciamo 5. Fine. Confirmo. Lui comincia a fare un cerchio con un raggio di 5 metri. In questo caso non possiamo decidere la velocità. Vediamo se agendo sul... No, gli stick non sono utilizzabili nella modalità automatica. Ok, interrompiamo la funzionalità. Proviamo anche un click away. Attiviamo prima la registrazione. Facciamo 5 metri. Confermo. No, in realtà la funzionalità sembra non aver avuto nessun effetto. Proviamo il return to home. Si sta alzando. Ok, viene sopra di noi. E inizia la discesa. Ovviamente sono partito troppo vicino alla macchina, quindi... Ok, il punto di partenza non era esattamente questo, ma ha sbagliato probabilmente di un metro. Ok, quindi è atterrato automaticamente. Ok, 6 satelliti. Con 6 satelliti si arma. Decollo automatico. Abbiamo la registrazione video. Adesso si trova ad un'altezza di 12 metri. Proviamo il ritorno a casa cliccando sul pulsante posto sul radiocomando. Sì, sta alzando. È arrivato ad un'altezza di 20 metri. Probabilmente non avevo settato bene i 15 metri. E sopra di noi inizia la discesa. Ok, rispetto al punto di partenza sta sbagliando di un paio di metri. Però direi che per il suo costo è accettabile. Proviamo invece l'app WS GPS. Quindi, armiamo. Decollo. Lo portiamo davanti a noi. Ci inquadriamo. Adesso armiamo i motori. Decolliamo. Abbiamo la registrazione e lanciamo il comando di follow me. Soll'istica. All'istica. Sarecci. L'istica. 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 Sarecci. Grazie a tutti. Ok, nel follow me il modello mi ha seguito tenendomi sempre inquadrato. Proviamo un volato con velocità aumentata. Ora, direi che nel volato è comunque un bel giocattolo, facilmente controllabile, perché in caso di problemi basta lasciare gli stick, si posiziona nel punto in cui si trova. Proviamo a disegnare un tracciato sulla mappa. Ok, send. Si sposta al primo punto e si sposta al secondo punto. Altra missione. Primo punto. Secondo punto. Terzo punto. Come possiamo sentire il modello è abbastanza silenzioso e ha un buon mantenimento della posizione. Ok, ha rilevato il segnale di fine batteria e quindi si è posizionato a 20 metri per fare il ritorno a casa. Questa volta è stato un po' più preciso. Questa volta è stata un po' più preciso. Questa è un po' più preciso.